Perché sto cercando di portare questa iniziativa anche in Italia perché aveva perso moltissimo. Noi oggi stiamo facendo questa manifestazione e abbiamo invitato anche dei team stranieri, abbiamo qua tre team importanti stranieri perché stiamo mirando a portare l'Europeo l'anno prossimo che sarebbe la prima volta che viene in Italia. Il tractor pulling, noto anche come track and tractor pulling, è uno sport motoristico e il suo principio della competizione è il trascinamento di un rimorso e zavorrato su un tracciato netto, retto, realizzato in terra battuta, della lunghezza di circa 100 metri. Questa competizione nasce inizialmente per i soli trattori agricoli ma successivamente si è evoluto in uno sport destinato a prototipi di diverse categorie, equipaggiati con motori da potenze eccezionali che l'hanno reso lo sport motoristico che utilizza i più potenti motori al mondo, motivo della sua notorietà. Bellissimo da vedere! Bellissimo da vedere! Bellissimo! Bellissimo, bellissimo! Bellissimo! Bellissimo, bellissimo! Bellissimo! Bellissimo, bellissimo! Bellissimo! È racccesso achuca Sheriff Fabri alta traviendo hopefully